Oggigiorno a me piace introdurre i ragazzi giovani nei processi decisionali, mi piace fare una sorta di mentoring nei loro confronti e mi piace vedere veramente come molto spesso arrivino più in alto di quanto io non pensassi. Mi sorprendono oggigiorno, mi piace, lavorano in team, sono semplici, sono immediati, hanno un concentro della leadership non dinastico ma meritocratico, lì dobbiamo andare e questo lo facciamo solo attraverso il coinvolgimento della delega.